carissimi pace buona giornata a tutti quanti voi dio vi benedica oggi grazie al signore 23 ottobre leggiamo nel libro di joelle al capitolo 2 al verso 13 dove troviamo scritto stracciatevi il cuore non le vesti tornate al signore vostro dio perché egli è misericordioso e pietoso lento allire pieno di bontà e si pente del male che manda in israele c'era l'usanza come segno di disprezzo o di dolore di stracciarsi pubblicamente le vesti e sappiamo anche per esperienza che le azioni hanno lo scopo di trasmettere un messaggio il che sia più comprensibile possibile messaggio che naturalmente lo stracciare delle vesti nascondeva e qual era il sentimento di costernazione di dolore anche di disperazione delle volte ma era un qualcosa che si usava anche in ambito religioso dinanzi al peccato proprio o commesso da parte di altri ricorderete che ad esempio dinanzi alle affermazioni di gesù che si dichiarava figlio di dio e quindi dio il sommo sacerdote in occasione dell'interrogatorio che venne fatto prima della condanna a morte di gesù si stracciò le vesti perché a suo dire gesù aveva bestemmiato naturalmente tutti questi gesti hanno significato nella misura in cui vengono compiuto con i giusti sentimenti perché altrimenti poi diventano soltanto dei semplici rituali che non hanno nessun significato nessun valore né agli occhi degli uomini quali prima o poi si accorgono della nostra ipocrisia né tantomeno agli occhi di dio che a prescindere vede scruta le rene e cuori e sa bene quello che c'è nella profondità della nostra vita ad esempio abitudine quella di chiudere gli occhi quando si prega per non essere distratti da ciò che ci circonda è sufficiente questo no perché se con la mente continuiamo a vagare e a considerare gli impegni della vita i problemi che abbiamo senza chiedere l'aiuto di dio aprire il nostro cuore davanti al signore con chiudere gli occhi è solo una mera formalità che non raggiunge lo scopo per cui esso è stato istituito si usa inginocchiarsi come esempio di umiliazione ma se il nostro cuore continua a rimanere orgoglioso e nel nostro rapporto con dio cerchiamo sempre di imporre la nostra volontà ci lamentiamo e siamo sempre lì ad avere un atteggiamento di ostilità verso il signore si tratta di qualcosa che non ha nessun valore e potremmo continuare e facendo tantissimi altri esempi e allora le parole di joele cominciano ad acquisire un significato joele dice più che stracciarvi le vesti stracciatevi il cuore cioè è inutile che vi rifugiate in delle abitudini formali cercate di metterci in cuore in quello che fate perché se non c'è il cuore a nulla vale ma se c'è il cuore allora voi otterrete la misericordia otterrete la il perdono otterrete l'approvazione di dio la sua benedizione il suo aiuto e tutto quello di cui avete di bisogno e allora quando entriamo in chiesa ci inginocchiamo sì ma nell'inginocchiarci con il corpo facciamolo anche con il nostro cuore umiliamoci nel cospetto di dio quando entriamo in chiesa chiamo gli occhi quando è tempo di preghiera ma mentre gli occhi sono chiusi non vaghiamo con la nostra mente lontano dal signore ma anzi approfittiamone per concentrarci sulla sua gloria sulla sua magnificenza sul sacrificio di cristo in modo tale che l'anima nostra possa trarre beneficio da quel tempo di adorazione sì perché lo scopo della fede è proprio questo quello di saldare il rapporto il vincolo col signore anche quello di aprirsi davanti a dio per chiedere il suo aiuto ma anche per ricevere quello che egli ha preparato per noi sì perché poi noi guardiamo alla preghiera come un momento in cui noi chiediamo 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 magari offriamo anche la nostra lode tutte cose lecite tutte cose giuste tutte cose buone ma diamo anche al signore la possibilità di poter riversare su di noi la sua benedizione e quindi il tempo della preghiera non sia un tempo che è già programmato ma diamo al signore la possibilità di poterci stupire con un suo intervento miracoloso e magari farci trascorrere non quel tempo che noi avevamo stabilito ma il doppio il triplo e state tranquilli cari che l'anima nostra non se ne pentirà ma anzi si rallegrerà perché quando c'è la benedizione di dio c'è la gioia del cuore e quei momenti sono veramente qualcosa di prezioso qualcosa da custodire nella nostra vita sì fratelli la nostra fede non deve essere qualcosa di formale di ipocrita non deve essere qualcosa di farisaico deve essere qualcosa di sincero e anche la lode che esprimiamo con la nostra bocca possa essere veramente qualcosa che è la manifestazione dei nostri sentimenti verso dio non basta dire gloria a dio bisogna veramente avere questo sentimento nei confronti del signore e dio ci aiuti perché il pericolo del formalismo è sempre dietro l'angolo ma se noi lo scansiamo lo evitiamo e siamo sinceri nel cospetto di dio allora vedrete che il signore opererà e opererà in modi che noi delle volte neanche possiamo provare a immaginare e anche noi come paolo diremo che il signore è colui che fa al di là di quello che noi domandiamo o pensiamo che dio ci aiuti ancora questa mattina nell'andare al suo cospetto con sincerità ad adorarlo a presentargli i nostri bisogni e a permettere al suo spirito di operare in noi e questa giornata sarà una giornata benedetta una giornata in cui alla conclusione diremo ancora una volta signore grazie perché tu sei stato fedele che dio ci accompagni e che la sua pace sia con tutti quanti noi